Per l'apertura di un centro sperimentale per l'autismo, è un centro che darà un progetto integrato per minori dai piccolissimi fino all'età delle medie, poi capiamo se è possibile andare anche oltre con eventualmente progetti di inserimento in integrazione con le scuole. Anzitutto a nome della cooperativa ringrazio l'amministrazione perché è stata molto sensibile al tema che abbiamo portato e che nasce da una valutazione dei bisogni del territorio. Noi lavoriamo già con progetti sull'autismo nella zona di Gallarate e di Busto e appunto quello che emerge dai confronti con le amministrazioni comunali, ma anche con le scuole, con le neuropsichiatrie, è un grande bisogno di servizi non riabilitativi perché quelli grazie a Dio ci sono, magari con un po' di lista d'attesa, ma di servizi che lavorino più in un'ottica educativa ed inclusiva rispetto agli altri percorsi che i bambini hanno. Quindi questo spazio che insomma è bellissimo e che abbiamo un po' ad allestire, ad arredare nelle prossime settimane, vuole essere proprio un punto di riferimento per le famiglie, per le scuole, per il territorio, per favorire l'inclusione e un lavoro specifico per questi bambini. Per noi è veramente importante, è una grande occasione, abbiamo già l'esperienza di Bollicino a Gallarate, che è un servizio analogo a quello che sorgerà qui a Marnate ed è un servizio che le famiglie apprezzano moltissimo. Si è creata una bella rete, una rete di supporto molto solida con le scuole, con il territorio, con la neuropsichiatria, con Aias e ci rendiamo conto che rispondiamo a un bisogno sempre più emergente.